oggi il nostro viaggio all'interno del parco zoo falconara ci ha portato qui presso il reparto dei niala i niala sono un'antilope africana come potete vedere maschio e femmina sono ben diversi fra di loro infatti in questa specie vige il dimorfismo sessuale un parolono difficile direte voi no semplicemente significa che maschio e femmina sono completamente diversi gli uni dagli altri come potete vedere le femmine hanno un manto chiaro con un pelo corto i maschi invece hanno un manto scuro una sorta di criniera sulla loro schiena ma soprattutto sono dotati di lunghe corna questo qui davanti a noi è il nostro maschio rucano le femmine di questa specie in situazione di pericolo possono emettere un verso simile ad un abbaio grazie a tutti